Ma quanto è bello scorrazzare per il mondo a bordo del mio velocissimo Zapdos, che sì, lo ammetto, l'ho catturato con un po' di fortuna utilizzando una Scuroball, però l'importante è essere riusciti nell'impresa. Benvenuti nel nuovo episodio della Pixelmon VMAX. Allora Zapdos, tu aspettami qua perché qua dietro avevo visto una Pokeball, vediamo un po', eccola, eccola qua, devo assolutamente aprirla immediatamente, vediamo un po', oh, una mossa. Rain Dance, ok, grazie mille, grazie mille. Caro Zapdos, dobbiamo tornare immediatamente a casa perché oggi abbiamo una nuova missione da compiere, tra l'altro torneranno dei Pokémon che gli iscritti a questo canale conosceranno molto bene se hanno seguito in passato la primissima Pixelmon. Durante le mie esplorazioni ho recuperato due Fish Fossil, ora così da soli non servono praticamente a nulla, ma se li andiamo ad unire in una crafting table assieme ad altri fossili simili a questi, possiamo ottenere un fossile completo che messo all'interno della macchina dei fossili che possiamo craftare, andare a far sponare dei nuovi Pokémon fossile. Vi ricordate la primissima palestra che ho fondato nella Pixelmon? Sì, era una palestra fossile, ma questi sono Pokémon che non abbiamo mai visto, quindi sono proprio curioso di vedere che cosa salta fuori. Pertanto, la prima cosa che dobbiamo fare è andare in giro per il mondo a cercare i pezzi mancanti. Per recuperare questi fossili abbiamo diverse possibilità. Questi che ho, li ho trovati all'interno di alcune ceste nelle varie strutture che ho incontrato durante le mie esplorazioni. Oppure, come abbiamo fatto nella prima Pixelmon, possiamo andare sul fondo del mare, cercarli, poi recuperare il fossile polveroso, andarlo a mettere nella macchina per ripulirlo e alla fine avere una probabilità di ottenere appunto questi fossili. Un'altra possibilità, se ho capito bene, è quella di andare a cercare sempre questi fossili nelle caverne a profondità tra 12 e 50, dovrebbero trovarsi in mezzo alla roccia. Insomma, abbiamo tanto da fare ragazzi, tra l'altro sono entrato in questo bioma davvero spettacolare che non avevo mai esplorato. In ogni caso ragazzi, adesso andiamo un pochino in esplorazione, cerchiamo cose, strutture e ovviamente se ci capita catturiamo anche qualche nuovo Pokémon. Mi sono dimenticato di dirvi che di questi fossili ne esistono quattro tipi diversi. Noi abbiamo preso i Fish Fossil, ma esistono anche i Bird Fossil, i Dino Fossil e i Drake Fossil. Combinati insieme ci permettono di ottenere ben quattro Pokémon, vale a dire Dracozolt, Dracovish, Arctozolt e Arctovish. Quindi ragazzi, dobbiamo averli tutti e quattro, assolutamente. Ce ne servono pertanto due per tipo. Eh, non sarà facile, non sarà facile. Intanto sto viaggiando in questi biomi, qua è un po' una palude. Voglio vedere se trovo qualche struttura, perché lì, secondo me, è più facile trovare questi fossili. Oppure anche dei centri Pokémon, forse li ho presi proprio lì, questi due fossili. Va bene, faccio un bel giro panoramico e vediamo un po' di trovare cose interessanti. Ahah, ecco un bel villaggio. Andiamo subito dentro lo shop e al centro Pokémon a vedere un attimino che cosa riusciamo a trovare. Per mezzo, eh, salve. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo... Allora, no, no, qui niente di interessante, se non due mosse, che però vediamo di prendere comunque. Andiamo qua invece... Uh, eccolo! Drake Fossil e altri due Fish, ok, va bene, lo stesso. Due Ultraball, molto bene. Due Rete, 5 Rete, bollè anche una mossa molto interessante. Dovrebbe esserci anche il centro Pokémon da qualche parte. Vediamo un attimino di cercarlo qua. Allora, ah, eccolo qua. Eh, mi sa che è un po' affondato nella roccia. Mi faccia vedere cosa c'è nelle ceste. Allora, oh, oh, oh! Ragazzi, sono una miniera d'oro queste ceste qua, eh, lo ammetto. Sono una miniera d'oro. E qui, e qui l'altra dov'è? Eccola. Allora, qui niente fossili. Qui niente fossili, però comunque altre cose e anche mosse. Va bene, vado a smistare tutto nello zaino e poi proseguiamo. Allora, struttura interessante. C'è una bella torre da andare ad esplorare. E qui, eh, se non è scappato, c'era un Rotom che volevo provare a catturare. Eccolo, perfetto. Pokémon interessante, ragazzi. Allora, lanciamo... Eh, sì, dai, possiamo usare anche Rillaboom. Gli facciamo una mossa di tipo erba. Mazzulegno, vediamo. Perfetto, direi perfetto. Va benissimo così. Adesso, zaino, Pokéball. Direi di utilizzare una normalissima Pokéball per il Rotom. Vediamo un po' se entra. Dai, 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 dai. Vediamo un po'. Attendi, attendi, attendi. Catturato? No, sei liberato. Peccato. Allora, riproviamo a lanciarne un'altra. Vediamo un po'. Dai, Rotom. La lavatrice, praticamente. La lavatrice... Sei liberato ancora. Ok, Rotom, ho capito che devo utilizzare con te una Ultra Ball. Tanto ne ho 27, quindi vediamo un po' se entra con la Ultra Ball. Dovrebbe avere una probabilità maggiore. Dai, 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 dai. Catturo? Catturato. Perfetto, catturato. Adesso andiamo ad esplorare la struttura, ragazzi. Allora, la struttura... Da che parte si entra qua? Vediamo un attimo. Forse di qua. Forse di qua c'è l'ingresso. Ecco, non vorrei che ci fossero trappole qua dentro, eh. Perché sono strutture, diciamo, non prettamente Pixelmon, anche se contengono oggetti Pixelmon. Allora, ragazzi, salgo fino in alto e vediamo se ci sono delle ceste, perché per il momento nulla di nulla. Ok, ecco la cesta, ragazzi. Uuuuh, no, bellissimo. Questi sono ottimi, li abbiamo utilizzati anche nello scorso episodio. Vedete, le altre cose sono non Pixelmon. Oddio, protezione al fuoco? No, non ci interessa. Tanto, ragazzi, non abbiamo pericoli. E là c'è un'altra struttura interessante. Sembra un tempio della giungla. Devo andare a vedere assolutamente. Eccoci arrivati. Non credo che questo sia l'ingresso, ragazzi, ma possiamo comunque esplorare bene questa zona. Uuuuh, vedete che ci sono delle ceste? Anche questa non è una struttura Pixelmon, però, come vedete, nelle ceste troviamo anche robe della Pixelmon. Ah, qui ci sarebbe uno spawner di zombie. Peccato che siamo in Pacifica e quindi non spona niente. Perfetto. Intanto abbiamo trovato un'altra mossa. Wow. E un oggetto. Ok. Beh, diamanti, buttali via. Un'altra mossa e sempre questi socket qua. Nuovo villaggio, nuovo centro Pokémon da saccheggiare. Allora, salve, come al solito la saluto. Oh, le Subball, mi mancavano. Otto Subball, un po' di latte, un po' di mosse, un po' di queste cose. E di qua, ragazzi, uuuuh, altre mosse. Un sacco di questi. Benissimo, benissimo. E poi c'è anche lo Shopla, che è messo un po' malino, devo essere sincero. È una posizione un po' particolare, devo dire. Quindi, per raggiungerlo, devo entrare un pochino lateralmente, secondo me. Direi di qua, che si può fare. Mi scusi se distruggo sempre questi centri, ma purtroppo l'ingresso è sempre ostruito da qualcosa. Allora, andiamo a vedere. Oh, yes! Dino Fossil 2, ragazzi. E poi delle Pokéball, altre due mosse. Il disco, no, il disco lo posso anche lasciare lì. E qui, invece, altre mosse, ragazzi. Quanta roba, quanta roba. Veramente un saccheggio totale. Anche il Fossil Scudo, che serve sì per far sponare un altro fossile, ma non quello che ci serve adesso. Ora prendo tutto e metto nello zaino. Nuovo centro Pokémon. Vado subito a vedere nelle ceste. Allora, qua, sempre oggetti utilissimi. Una mossa. Sono andato anche a casa a svuotarmi l'inventario, perché avevo riempito praticamente tutto. Allora, qui, niente fossili, ragazzi. E qua, vediamo se c'è qualcosa. Ok. Per il momento ho privilegiato trovare villaggi, piuttosto che andare a scavare in miniera, perché secondo me lì è ancora più raro trovare i fossili. Poi devo fare comunque un processo abbastanza lungo, quindi preferisco fare così. E qua, invece, niente. Stavolta è andata male, stavolta è andata male. Ragazzi, io continuo per un po' a cercare all'interno di questi centri Pokémon, e quando avrò due fossili per ogni tipo, torniamo a casa e iniziamo a costruire il macchinario. Allora, ragazzi, dopo aver girato ancora un po' per il mondo, sono riuscito a trovare tutti quanti i fossili. In realtà, molti di più di quelli che mi servirebbero. Però abbiamo tutto quello che ci serve per sponare i nuovi Pokémon. Adesso andiamo a crearci la macchina dei fossili. Quindi, andiamo a craftare i vari pezzi. Questa l'avevo fatta forse nella prima Pixelmon, ragazzi. Allora, per fortuna avevo il piccone in diamante, così ho potuto scavare dell'ossidiana, e ci facciamo il monitor del revitalizzatore. Poi abbiamo bisogno di pannelli di vetro, e facciamo questo qua, che è un altro crafting, che è la vasca del revitalizzatore. Perfetto. Poi ci serve un altro pezzo fatto così, che è la base, e poi un altro pezzo fatto così con la redstone, che è la parte superiore. Ora, questa messa nella crafting table in quest'ordine, quindi questo qua, questo qui, poi il computer qua, e questa è la base, ci dà la fossil machine, ragazzi. Eccola qua, ve la ricordate sicuramente. Tra l'altro, costruendo questa cosa, mi è venuto in mente che forse sarebbe il caso anche di costruire un bel laboratorio. Che ne dite? Dai, scrivetemi nei commenti se volete rivedere il laboratorio segreto di Tech. Magari lo possiamo costruire da qualche parte qua sotto. E ora andiamo a preparare i vari fossili. Allora, 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 le combinazioni dovrebbero essere il Drake Fossil, ne mettiamo già due, dovrebbe andare con il Bird e otteniamo il Dracozold Fossil, perfetto. Poi un Fish e otteniamo il Dracovish Fossil, ok. Poi abbiamo sempre il Bird con il Dino che ci dà il Arctozolt e infine un Fish con un Dino che ci dà l'Actrovish. Ragazzi, i nomi sono complicati. Adesso, se io vado a mettere uno di questi fossili all'interno della macchina, con una Pokéball forse devo prendere. Allora, mettiamola qua. Mi pare che si faceva così, esatto. E poi si metteva dentro il Fossile. Vediamo. Iniziamo con questo qua. Dai, ragazzi. Uh, sì, sì. Funziona. Sta processando. Dobbiamo aspettare il 100% e in teoria dovrebbe entrare nella Pokéball. Dopodiché sarà nostro. Non vedo l'ora, ragazzi. Non vedo l'ora. 97, 98, 99. Ragazzi, non ci sta più nella macchina. Sta esplodendo praticamente. Ok, ritira il Pokémon. Basta che faccio così. È mio? È mio? Oddio, dove è finito? Nel PC? Aspetta, aspetta. Forse è finito nel PC. Allora, vediamo un attimo. Eccolo! Sì, bellissimo. Allora, aspettate. Lo mettiamo al posto di questo. Mi sa che vado qua fuori a vederlo perché non riesco. Altrimenti lì è troppo piccolo. Vediamo un attimo. Oh! Dai, ci sta, ragazzi. Guardate. Non l'avevo mai, mai, mai visto. Naturalmente è di livello 1, quindi... Eh, ok. Dovrò allenarlo un pochino, eh. Però mi piace. E ora andiamo a vedere gli altri. Andiamo a vedere gli altri. Anche questo sembra un Pokémon molto interessante, quindi l'ho messo dentro una Ultra Ball. Adesso li prendo tutti, ragazzi. E poi li andiamo a vedere con calma anche i tipi, eccetera, eccetera. Ritira il Pokémon. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Vai con Dracovish adesso! Missione compiuta, ragazzi. Finalmente ho tutti e quattro i Pokémon fossile che volevo recuperare. Allora, iniziamo con Dracovish nella Rete Ball. Ok, dai. Ha una forma particolare. Ovviamente essendo un Pokémon fossile viene dal passato. Non è male. Anche i colori sono interessanti. Molto bene. Passiamo a Arctozolt, ragazzi. Ma che cos'è questo? No, dai, ragazzi. Ma che cos'è? Ma ragazzi, c'è pure il moccio al naso. Ma che cos'è sto Pokémon? Ma non è possibile. Ha mezzo corpo, strano, la testa di gallina. Mamma mia. Vediamo il prossimo, ragazzi. Dracozolt. E anche questo, devo dire, che è molto particolare, ragazzi. Ha metà corpo, che assomiglia a un dinosauro molto, molto muscoloso. E poi, in realtà, ha la parte superiore della testa più piccolina. Ok. E poi abbiamo Arctovish, che abbiamo visto prima. Quello che mi interessava vedere ora erano i tipi. Infatti questo è un Acqua Drago, che è interessante. Poi abbiamo un Elettro Ghiaccio. Poi abbiamo un Elettro Drago. E infine un Acqua Ghiaccio. Mi sembra che la differenza rispetto ai Pokémon fossile che avevamo nella prima Pixelmon è che hanno tipi diversi. Mentre, se non mi sbaglio, quelli della prima Pixelmon erano sì, doppio tipo, ma erano tutti quanti almeno di un tipo comune a tutti. Interessante, davvero interessante. Naturalmente andrò ad allenare un pochino questi Pokémon per farli salire di livello, anche se non credo che li terrò nella mia squadra ufficiale, che tra l'altro dobbiamo pensare. In ogni caso, aspetto anche una vostra opinione riguardo a un futuro Laboratorio Segreto. E a questo punto ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!